Bella a tutti ragazzi, qua Orgasmic e benvenuti in un nuovo episodio dei Summer Transfer di FIFA Abbiamo tre giocatori del Milan, cioè linkati con il Milan, un episodio interamente rosso-nero Come voi sapete è la mia squadra del cuore il Milan e quindi dovevo fare un episodio unicamente che interessava il Milan Anche perché comunque è la squadra che attualmente in Serie A è la più attiva insieme alla Juve e comunque è la squadra che sta facendo un po' più mercato Quindi i tre giocatori di oggi sono tutti e tre linkati come ho detto prima alla squadra del Milan Quindi direi di partire subito senza perderci in chiacchiere, intanto lasciamo un bel like che non fa mai male A 300 mi piace uscirà un nuovo episodio e comunque scrivetemi nei commenti qualche altro rumor da trattare successivamente Comunque partiamo subito con il primo giocatore che si dovrebbe trasferire al Milan, anzi si trasferirà al Milan E stiamo parlando di Jackson Martinez che appunto ha detto negli ultimi giorni, l'ultimo giorno più o meno Ha detto sì al Milan e quindi sarà il primo rinforzo offensivo del nuovo Milan di Sinisa Mijailovic Un colpo secondo me veramente interessante perché anche se il giocatore ha 28 anni, quasi 29 E comunque uno dei migliori centravanti che si possono trovare sulla piazza, sul mercato e quindi è un grosso colpo Verrà pagata la causa della rescissoria di 35 milioni fissata dal porto e in più al giocatore spetteranno circa 3,5-4 milioni l'anno Comunque cifre importanti di un giocatore che non è più giovanissimo ma che comunque può fare la differenza Perché l'ha fatto vedere anche comunque in Champions League che fa tanti gol, è veramente molto molto forte E mette in difficoltà le difese avversarie perché può fare parto da solo Poi il secondo giocatore andiamo un po' più sul sogno, sul sogno utopistico ma che comunque potrebbe essere possibile Cioè un possibile ritorno in rosso-nero di Zlatan Ibrahimović E qui bisogna parlare tanto di Zlatan Ibrahimović perché è stato uno degli ultimi colpi più importanti del Milan Quando è arrivato tipo nel 2011, 2010 non mi ricordo E grazie a lui abbiamo vinto il primo Scudetto Comunque un giocatore che anche se ha 33-34 anni è ancora in grado di fare la differenza ma tutta la vita Quindi io lo prenderei assolutamente Sono uscite notizie ultimamente della sua volontà di rimanere al PSG Oppure il PSG, il presidente del Paris Saint Germain che ha detto che Ibrahimović resterà al PSG Ma comunque sono solite dichiarazioni di facciata abbastanza prevedibili Che potrebbero essere smentite da un momento all'altro Dovrebbe essere, il PSG dovrebbe vendere penso perché con il fair play finanziario Penso che debba vendere quindi Ibrahimović potrebbe essere uno dei giocatori che il Milan potrebbe richiedere E me lo auguro tutta la vita Ibrahimo che ha un ingaggio altissimo circa di 12 milioni netti a stagione Al Milan se li ridurrebbe fino a 7,5-8 per 2-3 stagioni non so quanto E bisognerà vedere poi se bisognerà pagare il cartellino circa 10-15 milioni Ma comunque io penso che ancora ne valga la pena perché Già mi immagino una coppia d'attacco Zlatan Ibrahimović-Jackson Martinez Che mi viene la colina in bocca davvero tutta la vita Mentre andiamo a parlare del terzo giocatore sempre in ottica Milan Perché questo episodio è esclusivamente incentrato sul Milan Visto che come ho detto prima è una delle squadre più attive in questo momento sul mercato Andiamo a centrocampo dopo esserci concentrati su due attaccanti E stiamo parlando di Condogbia Stesso discorso del Paris Saint Germain Il Monaco è costretto a vendere Condogbia uno dei suoi gioiellini Che valuta intorno ai 30 milioni È davvero un grande centrocampista molto giovane Un 93 se non sbaglio E potrebbe diventare uno dei giocatori più promettenti Il centrocampista più promettenti del suo ruolo Ripeto 30 milioni quanto richiesto dal Monaco Il Milan è offerti 25 ma ha dalla sua parte anche la volontà del giocatore di trasferirsi a Milano E quindi siamo già a un ottimo punto E penso che con Condogbia e magari un possibile rinnovo di contratto di De Jong Il Milan può tornare ad essere un'ottima squadra Parlando ovviamente di centrocampo e ovviamente parlando di attacco Con quei due lì come ho detto prima davanti Molto molto competitiva Bisogna poi vedere cosa verrà fatto anche in difesa Che come sappiamo è uno dei ruoli più delicati Il ruolo più delicato forse del Milan di quest'anno Dove ha avuto più difficoltà Si parla molto di Hummels, si parla di Godin, si parla di Miranda Si stanno sparando magari tanti nomi Bisognerà vedere poi successivamente Dopo che verranno concluse queste trattative O comunque archiviate Cosa succederà nel Milan in ambito difensivo Comunque raga Il video finisce qui Spero vi sia piaciuto Come sempre vi invito a lasciare un bel mi piace 300 o 400 mi piace Quanti ne volete voi per il prossimo episodio Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate di questo episodio Dei giocatori che il Milan potrebbe prendere O che ha già preso come Jackson Martinez Anche se non siete milanisti ovviamente Comunque questi sono ottimi colpi di mercato Senza alcun dubbio E se secondo voi grazie a B e a questi nuovi capitali Il Milan può tornare ad essere competitivo come merita Vi invito a iscrivervi al mio canale Pagina Facebook, Twitter, Instagram Tutti i link come sempre li trovate in descrizione Noi ci vediamo al prossimo video Bella raga